Il Tribunale del Riesame ha dissequestrato i beni della Filanto S.p.A., terreni e immobili riconducibili all'azienda per un valore di oltre 300.000 euro che erano stati congelati dal GIP Cinzia Vergine, su richiesta del sostituto procuratore Giovanni Gagliotta. Alla base del sequestro per equivalente disposto nei giorni scorsi ci sarebbe stata una disputa tra l'azienda e l'Agenzia delle Entrate per un'indebita compensazione, ovvero il mancato versamento di somme dovute pari a quasi 303.000 euro. Dalla dichiarazione dei redditi del 2006 sarebbe infatti emerso un credito, a favore della Filanto, di oltre 214.000 euro. I due modelli F24, presentati nel gennaio 2007 dalla società, ammontavano a oltre 114.000 euro uno e oltre 400.000 euro l'altro, superando quindi il credito disponibile di 302.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso la documentazione in procura che di conseguenza ha aperto un fascicolo nei confronti di Antonio Filograna Sergio, presidente della Filanto. Lo stesso indagato aveva dichiarato, dopo il provvedimento, che i beni sequestrati alla Filanto avevano in realtà un valore di gran lunga maggiore, pari a più di 60 milioni di euro. I suoi legali, Pasquale Corletto e Cosimo Finiguerra, davanti al Tribunale del Riesame, hanno affermato che per quel tipo di reato la legge non consentirebbe il sequestro per equivalente. La motivazione della decisione dei giudici sarà depositata nei prossimi giorni.